Ciao, se sei capitato in questo video cerco di spiegarti chi sono in 59 secondi. Avrai anche tu tre problemi da risolvere e giustamente stai cercando il modo migliore per risolverteli. Ti riassumo i tre problemi. Primo, che spendi una follia per riscaldare e produrre acqua sanitaria di casa tua. Il secondo problema è che sei stanco di essere dipendente da bollette energetiche come metano, gas o gasolio. E il terzo problema è che per quanti soldi spendi hai sempre la casa non proprio calda, forse tiepidina. Quindi se anche tu hai uno di questi tre problemi e ti interessa vedere in maniera pratica come si possono risolvere, allora guardati questi mini video, non mi vedrai parlare dietro una scrivania, bensì vedrai realizzazioni pratiche fatte in case in cui le persone avevano gli stessi problemi tuoi. Ma oltre a questo vedrai anche le testimonianze proprio di loro per capire come si sono trovati sia nelle lavorazioni che anche nei contributi diretti e l'assistenza. Detto questo mi presento, io mi chiamo Ugo De Stefani e abito in un paesino della provincia di Vicenza e sono l'ideatore del brand Biomassa Evolution. In questi 16 anni mi sono proprio specializzato nell'aiutare quelle persone che abitano in case relativamente vecchie e che quindi hanno bisogno, veramente bisogno, di vivere la propria casa al caldo. Ed oggi, grazie a quattro fattori, la tecnologia della biomassa, i contributi diretti, un corretto sopralluogo e check-up energetico, quarto, forse il più importante, e cioè le vere garanzie sui prodotti, assistenza e rendimenti dell'impianto, con questi quattro fattori, in questi anni sono riuscito ad ottenere molte famiglie felici dei loro piccoli investimenti. Tra una notte insonnia ed un'altra, visto che sono anche diventato papà per la seconda volta, ho anche scritto un libro, si intitola I 7 pericoli delle energie rinnovabili per casa tua. E l'obiettivo di questo libro è quello di aiutare persone come te a difendersi da quella che è la propaganda commerciale e magari spendere soldi in prodotti che magari non fanno al caso tuo. Ma questa è un'altra cosa. Ho sforato i 59 secondi, te ne sarai reso conto. E adesso che mi conosci un po' di più, guardati i video e se li reputi interessanti, oltre che lasciare un tuo commento, che fa sempre piacere, condividili con i tuoi amici perché potrebbero esserti grato di avere queste nuove informazioni. Detto questo, passo e chiudo. Ciao ciao!